Una brutta serata al Pala Borsani di Castellanza per le ragazze perugine. Quasi mai in partita, in grande difficoltà contro Busto Arsizio. In un colpo solo, la Bartoccini Forti Infissi perde l'imbattibilità che durava da 12 turni, dall'inizio del campionato di Serie A2 e la testa della classifica. Il fattore campo gioca un ruolo non secondario. La squadra lombarda è attenta, super concentrata, formidabile al servizio, molto efficace in difesa e in attacco. Discontinua invece Perugia, ma ci può stare dopo due mesi a tutto gas. Primo set di marca Bustocca. Zanette, Rebora e la croata Svetnic spingono forte e dominano la scena. La Bartoccini Forti Infissi fatica a tenere il passo delle padroni di casa, 25-22. Equilibrato è avvincente il secondo parziale. Perugia alza la voce, rimonta e porta Busto ai vantaggi. Zanette però è imprendibile, la futura giovane si impone per 27-25. Senza storia, praticamente il terzo set, con le ragazze di Giovi incapace di opporre resistenza, 25-19. Perugia in doppia cifra con Traballi, Montano e Cogliandro, ma non basta. Si torna, per fortuna, subito in campo. Domenica, altra trasferta sul campo di Padova, penultima con soli 4 punti.